Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Oggi 31 marzo cessa in tutta Italia lo stato di emergenza per la pandemia. Si torna lentamente alla normalità. Bisogna tenere ancora comportamenti rigorosi. Purtroppo i contagi nelle ultime settimane sono aumentati. Scatta lo stop allo stato di emergenza nazionale per il Covid. Nonostante rimanga l'allarme per una crescita, seppur meno marcata, del contagio anche in Campania, saranno ridotte attività di prevenzione e vaccinali. In questa direzione va anche la chiusura del Covid Center della Mossa d'Ottemare di Napoli, che lascerà spazio a una piccola area dedicata solo ai profughi ucraini. Dopo più di 700.000 punture effettuate chiude dunque la struttura, ma resterà aperta quella del frullone. Nelle ultime settimane è crollata letteralmente la richiesta di vaccini, dunque non si rende più necessaria l'organizzazione messa in piedi fino ad ora. Scade sempre domani la possibilità per i medici di famiglia, quei pochi disponibili naturalmente, di sottoporre i loro assistiti ai tamponi gratuiti. Dal 1 aprile si potranno effettuare solo a pagamento nelle farmacie e nei laboratori. Tornando ai numeri, aumentano per la seconda settimana consecutiva i ricoveri di pazienti Covid, più 8,6%, ma l'incremento è meno marcato rispetto a una settimana fa, più 10,7%. Il dato riguarda i ricoveri ordinari, che fanno segnare un più 9,4%, a differenza delle terapie intensive, dove il numero di pazienti scende al 3,4%. Questo emerge dalla rilevazione della Federazione Aziende Sanitarie Ospedaliere Fiaso del 29 marzo. La curva dei ricoveri in discesa dal 1 febbraio dunque ha invertito la direzione ormai da 15 giorni. Eppure, come detto in questo contesto, si prova a ritornare alla normalità, sintomo che la percezione del governo e dell'Isis è che si sia passato dalla pandemia all'endemia. Dunque occorre sempre più convivere con il virus e accettare la sua presenza, continuando a proteggersi in autonomia e potenziando cura e assistenza. Siamo in collegamento con il professor Giulio Tarro, virologo di fama internazionale. Grazie professore per essere nuovamente collegato con noi, ben trovato. Grazie per avermi chiamato. Allora professore, con lei cominciò un collegamento un po' particolare, circa due anni fa, proprio era l'inizio dell'emergenza. Con lei vogliamo concludere questa terribile vicenda dell'emergenza coronavirus. Oggi cessa lo stato di emergenza, si entra in un apseudo, normalità, perché ancora ci chiedono rigore e una serie di norme da eseguire. Però le chiedo, insomma, questi due anni cosa è accaduto realmente? Perché ancora non abbiamo un quadro chiaro. Ma direi che è stato importante seguire questa epidemia, perché da quella che poteva essere una banale, per così dire, SARS, la sindrome respiratoria che ricordava quanto era avvenuto a Hong Kong vent'anni addietro. Nel caso specifico invece si è voluto un pochino ingigantire questa minaccia. e non è solo ovviamente italiano, è stato un fatto mondiale, non per niente è una pandemia. Però la pandemia, guarda caso, è diventata una volta che era finita l'epidemia cinese. Diciamo, mentre si brindava all'ultimo paziente che usciva dalle strutture ospedaliere di Wuhan, quando l'epicentro dell'infezione e quindi di quell'epidemia, si dava il titolo di pandemia, da parte l'OMS, se non sbaglio era l'11 marzo del 2020 e il 14 marzo invece la Cina brindava l'ultimo paziente dimesso. Con delle grosse differenze. Noi eravamo in piena, per così dire, curva crescente della nostra epidemia, mentre invece in particolare a Wuhan, fatte le disinfezioni, finito il lockdown, hanno fatto lo screening di tutta la popolazione, si può dire 10 milioni su 11 milioni perciò di screening, e che hanno trovato che tutto sommato quei pochi, che ancora 0,3 su 10 mila erano positivi, non erano praticamente contagianti e quindi hanno riaperto le attività sociali. E invece noi, diciamo, purtroppo ci siamo fatti i vari Natali e Capodanno e Pasqua in mezzo, in piena, per così dire, lockdown. Il problema è stata questa grossa differenza con la Cina da cui era originata, diciamo, l'infezione. Tutta la pandemia. Naturalmente la campagna vaccinale ha fatto il suo corso, una campagna vaccinale che in Italia ha riscosso molto successo. Le chiedo, adesso si comincia a parlare anche di una possibile quarta dose agli over 50, già siamo alla terza, insomma, bisogna anche cercare di contenere questa campagna vaccinale, insomma, forse un eccessivo vaccino potrebbe anche dare dei problemi alla salute, le chiedo da esperto. Ma lei, diciamo, sempre mi fa dei quesiti molto aggiornati, nel senso che effettivamente la terza dose prima, con una, diciamo, una diaspora, si va per dire, una dissociazione fra l'ambiente scientifico americano, eventualmente l'ambiente politico americano, anche là ci sono queste dissociazioni. Nel caso specifico dicevano che tutto sommato non era necessaria questa, diciamo, terza dose. In ogni caso è passata, però con dei risultati che i migliori di Teuva, in particolare, hanno detto che tutto sommato già dopo le prime due dosi c'era un decadimento, si va per dire, delle risposte immunitarie, ma in genere non ovviamente soltanto per il Covid. E quindi era una sindrome di immunodeficchienza, ovviamente non data dall'HIV, ma eventualmente legata alla promministrazione, diciamo, di questi vaccini che in Israele, dove hanno iniziato la quarta, hanno dovuto di gran corsa, per così dire, interromperla, perché ovviamente non ci trovavano che valesse la pena rispetto agli effetti collaterali e anche eventualmente dopo questi suggerimenti dal Regno Unito. Ci dia qualche consiglio per ritornare alla normalità, diciamo che usciamo da questi due anni molto compromessi psicologicamente, insomma, siamo abbastanza stressati tutti. Ci dica come possiamo lentamente tornare alla normalità senza commettere errori, perché la paura che abbiamo è proprio possiamo essere liberi, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, ci richiudono. Io metterei tre risposte sincroni, nel senso che da una parte ovviamente cominciamo a dire che il carnevale è finito e quindi leviamoci la mascherina. E questo è un primo dato, penso importante, considerando sempre che la mascherina va tenuta dal soggetto incontaggiato per evitare ulteriori contagi e ovviamente dall'operatore sanitario che può avere a che fare con pazienti potenzialmente contagiosi. Questa è una prima cosa. La seconda cosa riguarda in particolare, diciamo pure questi vaccini, i vaccini ormai sono arrivati con i nuovi vaccini rettori delle proteine ricombinanti, quello là diciamo che è di brevetto americano però prodotto in Francia e soprattutto quello che è importante è visto quale neva, un virus inattivato, visto che è attivato vuol dire che è una specie di associazione alla soluzione, quindi non abbiamo più a che fare con l'aspite che dà tanti problemi anche con i vaccini cosiddetti del virus vettore perché purtroppo il veicolo è rappresentato dal gene per la produzione dell'aspite, quindi già dovremmo stare anche tranquilli a livello vaccinale pur che ovviamente ci riferiamo ai vaccini diciamo tradizionali, questo penso sia un fatto molto importante. E poi infine ormai abbiamo visto, addirittura abbiamo la regina Elisabetta che è guarita in pochi giorni a 95 anni dall'infezione da Covid usando l'ivermectina, il famoso farmaco che d'altra parte ha dato tanto beneficio soprattutto in un paese come l'India dove chiaramente c'è stato una grande percentuale di vaccinati ma in compenso rispetto all'epidemia loro, loro hanno utilizzato appunto questo antivirale e gli antivirali sono venuti fuori adesso anche non solo quello della Merchie che gli inglesi subito hanno utilizzato dall'inizio di dicembre, ma anche direttamente da quell'inibitore della città diversa che proprio è prodotto dalla Pfizer e quindi c'è ormai pure la compressina per questa infezione da Covid e quindi diciamo attraverso questi tre sistemi organizzati insieme possiamo stare tranquilli. E allora noi con questo suo sempre ottimismo che non lo ha mai abbandonato anche durante il momento più buio della pandemia ci salutiamo, la ringraziamo e naturalmente torneremo a collegarci con lei per parlare di tanto altro perché ahimè il problema sanitario non è soltanto il Covid ci sono tante altre patologie che devono essere curate e attenzionate, si è perso un po' troppo tempo io credo nel mondo sanitario inseguendo il Covid. Assolutamente, soprattutto in campo oncologico. Grazie professore, arrivederci. Giovanni Uccisi ad Ercolano chiesto il giudizio immediato scambiati per ladri da un autotrasportatore. La procura di Napoli ha presentato istanza di giudizio immediato nei confronti di Vincenzo Palumbo, l'autotrasportatore di 53 anni, accusato del duplice omicidio volontario di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro. I due giovani di 26 e 27 anni, originari di Portici, vennero uccisi a colpi di pistola la notte tra giovedì 28 e venerdì 29 ottobre scorsi ad Ercolano, in provincia di Napoli. Raggiunti ciascuno da un proiettile alla testa, uno morto sul colpo, l'altro dopo qualche minuto. Questi i fatti che emersero dalle autopsie disposte sulle salme di Giuseppe e Tullio. Agli accertamenti parteciparono il medico legale nominato dalla procura di Napoli, la dottoressa Anna Gargiulo, e i due consulenti nominati dai legali delle parti offese, l'avvocato Gennaro Bartolino per la famiglia Fusella e l'avvocato Maurizio Capozzo per la famiglia Pagliaro. Davanti agli inquirenti, l'uomo ha sempre sostenuto di aver sparato contro i giovani perché le aveva scambiati per due ladri. Non vi lasceremo soli, è una promessa, cercò di consolare i familiari e gli amici dei due giovani, il vescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, nel corso del suo intervento dal pulpito. Ci capita a volte di chiedere dove è Dio. Oggi piange con noi, con le persone che hanno perso un figlio, per l'insensatezza di questa morte, piange con noi per la fine terrena che è una mano umana riservato a Tullio e Giuseppe, piange con noi per le famiglie che hanno perso un figlio e anche per quella che è stata improvvisamente sfasciata dalla violenza atroce di chi ha ucciso. Se volete interagire con la nostra redazione potete sempre farlo scrivendo al numero whatsapp di Televomero 3394628565. Un servizio. Gasolio per uso agricolo con accisa agevolata e per i pescherecci con accisa praticamente pari a zero venduto come gasolio da autotrasporto e quando all'orizzonte si profilava l'eventualità di un controllo delle forze dell'ordine, l'autotrasportatore per uscirne pulito colorava il carburante e con un efficace meccanismo appulsante grazie al quale iniettava l'additivo nella cisterna. È quanto hanno scoperto i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che tra la Puglia e la Campania hanno sottoposto a sequestro tre depositi di carburante e un distributore per una capienza complessiva di circa 1000 metri cubi, un'area di parcheggio, 5 mezzi di trasporto e circa 100.000 euro in denaro contante. I sigilli sono scattati nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Nola che riguardano 14 persone nei confronti delle quali gli inquirenti ipotizzano i reati di sottrazione all'accertamento al pagamento dell'accisa su prodotti energetici e irregolarità nella circolazione dei carburanti. I militari del gruppo Tutte le Entrate si sono concentrati su 5 società, tra cui una titolare di un deposito fiscale autorizzato a detenere prodotto energetico in sospensione di imposta in attesa di essere immesso in consumo per varie destinazioni. Gli indagati avrebbero messo in piedi tra le province di Napoli, Caserta, Salerno e Barletta un sistema di frode fiscale volto estrarre dal deposito fiscale attraverso documenti solo formalmente corretti, gasolio con imposte agevolate per uso motopisca o agricolo, parte del quale sarebbe stato invece destinato di fatto all'autotrazione. In questo modo gli indagati si sarebbero garantiti i profitti commisurati alla maggiore imposta cui il gasolio sarebbe stato assoggettato se destinato direttamente all'uso finale per autotrazione. Emergenza criminalità, necessario un lavoro sinergico tra istituzioni e forze dell'ordine e cittadini per blindare la città dalla malavita. Un'intesa con la prefettura e le forze dell'ordine per far sì che i fondi del PNRR non finiscano nelle mani della camorra. E' questa la strada che intende intraprendere il Comune di Napoli dopo gli allarmi sul rischio dell'infiltrazione della malavita nella gestione dei fondi del piano di riesilienza lanciati prima dal Ministro dell'Interno Lamorgese che venerdì tornerà a Napoli per partecipare a un'iniziativa sui beni confiscati e in ultimo dal Premier Draghi a margine della firma del patto per Napoli. A illustrare la proposta l'assessore Antonio De Jesu questa mattina durante la seduta monotematica del Consiglio Comunale sulla lotta alla camorra la sicurezza urbana. Noi porteremo avanti un progetto preventivo per i finanziamenti del PNRR e stiamo elaborando, stiamo pensando, stiamo progettando in intesa con la Procura, con la DIA per poter fare un protocollo che possa già monitorare i finanziamenti già sul nascere, in maniera che abbiamo questa collaborazione sostanziale con organismi investigativi per approcciare in maniera preventiva già questi finanziamenti. Per il Sindaco Gaeta Romanfredi i tempi saranno fondamentali. Tra poco partiremo con le gare perché si stanno completando le progettazioni e questa è una grande criticità, non ci possiamo permettere, come ha anche ricordato ieri il Presidente Draghi, quello che noi riteniamo fortemente e che oggi credo emergerà da questo dibattito in Consiglio Comunale, non ci possiamo permettere nessun rischio di infiltrazione, però per far questo abbiamo bisogno di strumenti straordinari proprio perché poi è anche difficile in alcuni casi riuscire a discriminare le imprese sane da quelle che possono essere teoricamente infiltrate, quindi su questo noi non abbiamo degli strumenti efficaci se non un'azione di coordinamento forte che deve essere messa in campo da Prefettura e Ministero degli Interni. C'è una zona, un quartiere che la preoccupa di più in questo momento? Ma io sono, diciamo, noi bisogna essere preoccupati in generale perché nel senso che è chiaro che nei quartieri dove c'è maggiore presenza della criminalità organizzata si può pensare che ci sia maggiore rischio, ma in realtà questo è un tema generale che riguarda non solo per la città, io sono anche preoccupato per l'area metropolitana dove abbiamo tanti comuni sciolti anche per infiltrazioni camorristiche dove chiaramente bisogna, e questo è un segnale molto negativo, quindi significa che la guardia deve essere molto alta. Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Napoli, l'amministrazione riparte, Napoli deve vincere la sfida dei fondi che arriveranno in città. L'enfasi con cui è stata celebrata dal mondo della politica e dell'informazione la firma per il patto per Napoli tra il sindaco Manfredi e il premier Mario Draghi richiamano un poco quella di tanti progetti e impegni del passato varati dai diversi governi che si sono fatti carico delle sorti della città. Al momento resta la firma del Presidente del Consiglio che sbloccherà per i prossimi vent'anni una cifra che supera il miliardo di euro, 500 milioni per i primi cinque anni, eppure a sentire i toni trionfali sembra già di vivere in una città più europea. Nel racconto enfatico della giornata però sono mancati i commenti degli eletti dai napoletani, quei consiglieri comunali che da oggi per i prossimi quattro anni saranno chiamati in aula per dare un importante contributo alla realizzazione dei progetti più utili per Napoli. Siamo in collegamento con Alessandra Clemente, consigliere d'opposizione in Consiglio Comunale a Napoli. Salve, grazie per essere collegata nuovamente con noi. Ben trovata. Salve, ben trovati. Il patto per Napoli segna un nuovo inizio per la città, deve essere rilanciata, i soldi arriveranno, non ci sono più alibi, bisogna fare presto, sono tanti punti di criticità. Come opposizione, come vigili reti affinché questo patto venga poi rispettato e attuato andando incontro a quelle che sono le esigenze della città e dei cittadini? È necessario ora veramente imprimere una svolta perché le condizioni della città si sono gravamente aggravate in questi sei mesi, sei mesi dove non c'erano i soldi, adesso invece i soldi ci sono quindi non ci sono più scuse e soprattutto vi leggeremo ed è importante che non ci siano attività di svendita né del patrimonio immobiliare della città di Napoli, né delle cessioni né confronti di enti come Cassa Depositi e Prestiti che attuano dei mutui pensati tra il 4 e il 5%, quindi dei mutui quasi usurai. È necessario perché queste risorse, un miliardo e due, arrivano in 21 anni, quindi un tempo abnorme, se ne occuperanno anche i prossimi tre sindaci dopo Gaetano Manfredi, ma nel frattempo subito invece vengono aumentate le tasse con l'aumento dell'IRPEF e il Comune deve predisporre delle azioni di ottimizzazione delle partecipate e di riorganizzazione del patrimonio immobiliare. Ecco, dietro alla parola ottimizzazione e riorganizzazione noi vigileremo affinché non ci siano né da un lato concessioni di servizi privati perché questi portano nel mondo l'inalzamento delle tariffe e né svendite dei nostri beni e quindi dei patrimoni pubblici. È un momento importante, bisogna tenere anche alta la guardia per quelle che sono le infiltrazioni malavitose, perché quando arrivano dei soldi è normale che la malavita in un momento poi di grande crisi sia inagguato. La responsabilità del Consiglio Comunale, soprattutto di un'opposizione libera, critica e costruttiva, secondo me è un elemento forte di garanzia, in un momento storico che appunto sia la grande responsabilità di lavorare, ma di lavorare per le future generazioni ed è quindi necessario che non ci siano pagine di corruzione, di malaffare e soprattutto quindi che non ci sia spazio per quella politica marcia che invece va a braccetto con compromessi e forme losche di drenaggio del denaro. Dall'altro canto ci dobbiamo difendere da una criminalità sempre più ben vestita, sempre più liquida e quindi una classe politica che debba anche avere il coraggio di denunciare e sono molto forti le alleanze con tutte le istituzioni preposte, penso alla Guardia di Finanza e penso anche alla Procura di Napoli. Stare a noi raccontare la cittadinanza e rendere anche partecipe la cittadinanza di tutto questo, perché più si sarà vigili e attenti e protagonisti e più renderemo difficile invece il gioco a chi vuole che ci siano sempre le luci spente perché al buio possono farsi i peggiori degli affari. Allora, per quanto riguarda il futuro politico di Alessandra Clemente, dopo l'ultimo strappo che si è consumato in città metropolitana con l'ex sindaco Luigi De Magizis e patrono in qualche modo di DEMA, questo movimento politico di cui lei ha fatto parte ed è stata candidata anche a sindaco, proprio investita in tempi non sospetti dall'allora sindaco di Napoli De Magistris, quale sarà? Dove si colloquerà sempre all'opposizione o troverà uno a sponda nella maggioranza Alessandra Clemente? Cosa ha portato a quest'ulteriore strappo con De Magistris? Io credo molto nella necessità di dover continuare ad essere fedeli a quel programma elettorale che ci ha visto proporci come alternativa, soprattutto alternativa ad un grande blocco di forze politiche che dal centro-destra delle civiche travestite ha dato poi vita a quella vittoria bulgara da parte di Gaetano Manfredi. Se penso alla regione Campania, continuo a individuare in De Luca una figura che mi auguro fortemente che venga superata attraverso quindi una politica che pensa ai quartieri e che soprattutto vuole guardare avanti. Per quanto riguarda la posizione di DEMA io ne ho preso atto e nel prenderne atto ho anche tutto sommato visto e dichiarato ciò che si era consolidato in campagna elettorale, ovvero un progressivo venire meno di questo progetto, forse anche già da tappe quali sono state le regionali precedenti, ma penso ancora prima le europee, ma alla pari non ho mai sentito la necessità né di fare polemiche, ma soprattutto sempre con grande impegno e con grande determinazione portare avanti ciò cui credo. In questo momento io resto nei banchi dell'opposizione e resto soprattutto convinta di un lavoro forte sui temi e su quelli che sono stati i valori che ci hanno caratterizzato e che continuano a caratterizzare il mio impegno politico oggi e credo sicuramente anche nel futuro. Certo, ma questo rapporto con l'ex sindaco De Magistris si è logorato nel tempo, era un rapporto che sembrava molto solido, fatto di stima reciproca, anche di affetto in qualche modo. Insomma il sindaco aveva molto creduto in lei, tant'è che è stato lui a portarla in giunta giovanissima, assessore giovani, a darle grande visibilità, con nomine anche importanti per la sua giovanità. E io non posso che confermare sul piano umano una profonda stima e anche il riconoscimento di anni straordinari trascorsi insieme ed è questo che mi motiva oggi ad essere non soltanto in consiglio comunale fedele a queste battaglie, ma dall'altro parte, da un punto di vista politico, prendere atto che si è maturata una distanza e farne non una polemica e una lavorazione dei rapporti, ma prendere non soltanto consapevolezza di tutto questo e provare in modo costruttivo e propositivo a guardare a nuove sfide e soprattutto stando sempre schierati dalla stessa parte, essendo una persona che ha deciso tempo fa di spendersi per il proprio territorio, non andare via e riconoscermi quindi con le tante straordinarie persone che in questi anni hanno non soltanto incoraggiato tutto questo, ma anche hanno fatto parte di una squadra che ritengo sia stata davvero forte e importante. Allora noi la salutiamo, la ringraziamo, naturalmente in bocca al lupo per tutto. Arrivederci. Viva il lupo, grazie. Una giornata per la legalità a Castellabate Eventi, dibattiti e la presentazione di un libro per ricordare la figura di Giovanni Falcone. Ieri a Castellabate è celebrata la giornata della legalità in occasione del trentennale dell'Ecidio di Capaci. Al mattino incontro con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Guercio sul tema della legalità e per tratteggiare la figura del magistrato che ha dato la sua vita per la lotta alla mafia. Gina Amoriello, dirigente scolastico, sottolinea la voglia di cambiamento delle nuove generazioni. La famiglia fa la sua parte, ma la scuola, ripeto, ormai dagli anni 90 segue con progetti all'interno del nostro piano triennale dell'offerta formativa, per esempio con l'educazione civica che dal 2019 è stata di nuovo introdotta nella scuola, abbiamo l'opportunità di offrire ai nostri alunni delle tematiche oppure dei progetti anche con i fondi europei su queste tematiche. Ieri invece, nel pomeriggio, presso il Salone d'Onore del Castello dell'Abbate, presentazione del libro Noi Uomini di Falcone, alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Gianluca Trombetti, del già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nole, il dottor Adolfo Izzo e dell'autore, Angelo Pellegrini. Parlare ai giovani è una cosa importantissima, che i giovani devono sapere quello che c'è nella storia, non si costruisce un palazzo senza avere le fondamenta. Le fondamenta sono quelle, sono quelle tragiche, quelle tragiche di quegli anni che abbiamo combattuto contro la mafia. I giovani sono quei famosi semi, quei famosi semi che noi poniamo, che piuttosto che costruire muri che ci dividano da queste frane, che può essere la criminalità organizzata, noi piantiamo tanti semi. Una volta che queste piante saranno diventate forti, riusciranno a bloccare questa criminalità che è ancora diffusa nel territorio nazionale, ma non solamente nel territorio nazionale, ma in tutto il mondo. Una giornata dedicata alla legalità, al giudice Falcone, è un'occasione per rendere ancora più autentico, reale ed unico il tema della giustizia e della lotta a tutte le mafie. Questo è il pensiero del sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. È una giornata davvero importante, sulla quale noi, ripeto, abbiamo, come dire, messo le nostre regine per far capire alle future generazioni che le cose fatte in passato non vanno dimenticate, ma vanno vissute con la giusta osservazione che emette, diciamo. È tutto, grazie per essere stati con noi. Un piacevole pomeriggio. Come di consueto ci ritroviamo nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.